carissimi amici e amiche eccoci tornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata a tenera amata che ci allieta la vita terrena e ci accende i desideri dei beni celesti come abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo terminato la precedente conversazione vedendo addirittura come tenera amata glorificasse quindi quindi facesse godere in maniera soprannaturale come sacerdotessa della creazione come lo siamo tutti noi una mosca ecco per tanto per avere un piccolo assaggio di ben altre delizie soprannaturali e abbiamo proprio concluso con la frase di tenera amata da cui vorrei riprendere che dice queste tre storie parole questa mosca aspetterà eternamente nella quinta dimensione nuove migliori glorificazioni che le verranno dal resto del cosmo d'accordo con i disegni dell'altissimo e lei corrisponderà a sua volta spiegando effusivamente i doni naturali che le diede il nostro dio quindi comprendiamo che questo mistero dell'eternità creata e quindi dell'eternità degli esseri coinvolge tutti gli enti creati tutte le sostanze create tutti gli atomi creati a tutti i livelli ecco probabilmente chi vedrà il video ogni tanto alle mie spalle vede qualche vede qualche quadrupede che cammina per casa ce ne sono un paio che abitano qui dentro questi quadrupedi che stanno vivendo qui in questo momento storico arriverà l'ora in cui certamente lasceranno nel tempo questa terra ma questo arco di tempo che stanno vivendo è il loro tempo eterno e sperando che tutto vada bene perché fate sempre una preghiera perché salvare l'anima è sempre il primo e principale obiettivo se come spero riuscirò a salvare la mia anima allora tornerò tornerò in questo contesto e li conoscerò un po' meglio loro conosceranno un po' meglio me io conoscerò un po' meglio loro loro mi faranno conoscere meglio le caratteristiche naturali che dio gli ha dato creandoli e io le farò godere molto più di quanto lo faccio adesso quando si mettono vicino e cominciano a cercare carezze e fanno le fusa è così non solo la povera gattina cieca che la provvidenza ci ha mandato per per aglietarli un pochino la vita poverina che dentro un ambiente sicuro campa meglio io sono praticamente certo che nell'eternità creata dato che saremo dei piccoli dei lo vedremo cioè si possono manipolare gli atomi e quegli occhiolini se non gli rifà nostro signore durante l'eternità creata cosa molto cosa molto probabile e rifaccio io è possibile farlo cioè già tenera amata ci ha dato una piccola dimostrazione ecco perché anche la struttura del globo oculare della vista andandola scomporre fino alla come dire ai minimi termini sono atomi sono atomi disposti in un certo modo quindi i veati hanno queste cognizioni a differenza di noi non solo queste cognizioni ma anche la possibilità di operare su di essi perché è una partecipazione di un potere che dio da loro come come dire come corredo della loro glorificazione allora riprendiamo quindi da dopo da questa affermazione di tenera amata in cui ci siamo fermati la lettura del testo che peccato dice ricardo che alcuni mortali lo dico per me ci comportiamo come specchi sporchi che riflettono appena e confusamente l'amore divino e lei e lei e lei gli ribatte a per fortuna non tutti i pellegrini sono così esistono in questo tempo molti santi viatori ma come dice è un vero peccato che in alcuni esseri umani si dia la tremenda aberrazione di odiare coloro che li amano o potrebbero amarli ed è anche un peccato che tu non possa gustare in questa vita i piaceri della gloria accidentale e adesso cominciamo a sentire questo è un passaggio su cui richiamo l'attenzione tutto al contrario ti è pericoloso l'amoroso amplesso che ti dà la terra con la sua forza di gravità perché è pericoloso la forza di gravità è un bel amplesso ma se io vado al primo piano e faccio un passo in più casco di sotto la forza di gravità non è tanto un amplesso ma faccio la cella per terra ecco è un amplesso se cammino non se volo per aria ti irrita l'affettuoso scoccare delle delle dell'elettricità l'elettricità vedremo che dirà tenera amata che è una cosa bellissima che dio ha creato qui non la percepiamo come tale perché se metti le dita dentro lo 220 insomma vedi che stocca che te prendi insomma se vai sull'alta tensione ne vai diritto dritto al creatore quindi noi non percepiamo il diletto che provoca il contatto con l'elettricità a meno che non abbiamo dei voltaggi molto bassi no tipo gli elettrostimolatori che vengono utilizzati anche a fine penso che lo sappiate a fine a fine di benessere a fine terapeutico non soltanto fine non terapeutico fine appunto di di benessere o a fine estetici quindi non soltanto a fini terapeutici per riprendere l'uso di arti articolazioni no però hanno un voltaggio evidentemente molto molto basso e se si carica troppo il voltaggio diventa fastidioso anche un aggeggio del genere no ti causano dolore le carezze che ti fanno le cose vivente nel loro vivente linguaggio di colpi o di tagli cioè se noi prendiamo una lama ce la mettiamo addosso non è tanto gradevole il contatto con la lama ma tenera amata sta dicendo che qui non è contatto non è devo del contatto con la lama vedremo che racconterà alcune storie veramente impressionanti no sentire hai paura degli animali feroci ci troviamo davanti un leopardo un puma una pantera o un leone o una tigre non credo che passeremo un bel quarto d'ora insomma anche perché qui i nostri padri nella fede che sono morti sotto i volodenti sanno qualcosa qui però poi non sarà così o ripugnanza degli insetti pensiamo a tutte quante le fobie che si hanno da parte di molti per gli insetti no poi per gli insetti o per gli animali come dire che che si possono essere un pochino repellenti no tipo i toghi c'è sta c'è 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 la fubia la fobia dei dei topi no o i serpenti e sentite cosa dice attualmente non sei ancora programmato per condividere l'amore universale e molteplice capiamo l'italia universale significa rivolto verso tutto cioè che 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 abbraccia tutti e tutto e che è capace di percepire dare amore a tutto e a tutti ed è un amore molteplice è chiaro che l'amore che mi scambio con l'elettricità è diverso dall'amore che mi scambio con un animale proiettando nell'elettricità in creato diverso dall'amore che mi scambio con un altro essere umano con una delle tante fiamme d'amore il signore per tutti noi ha pensato e che qui non possiamo vivere in questo mondo è diverso dallo scambio d'amore che ci avremo tutti con la donna con il nostro signore gesù cristo con la santissima trinità e non detti soltanto pochi e ma nella patria constaterai riprendendo la citazione che amare è dare che l'amore si paga con l'amore che il contraccambio è molto gradevole e che per essere felici occorre far felici le altre creature vincolate amorosamente con te e qui possiamo cominciare già da questo mondo queste cose queste ultime cose qualcosa lo capiamo anche in questo mondo no che l'amore amore con amor si paga era una frase cara a santa teresa di gesù bambino è evidente ogni volta che il nostro amore rimane in qualche modo frustrato verso verso chiunque noi stiamo male mi pare di aver già detto non so se in questa sede che è importantissimo quando qualcuno ci fa una gentilezza quindi un atto di di amore o di attenzione anche minimo far notare che lo si apprezzano sapete alcune norme del del galateo che sono cose belle a me piace dirle no perché sicuramente già tutti quanti le le sapete però noi su queste su queste finezze dobbiamo dobbiamo allenarci un po no supponi che per esempio una persona ti regala un maglione e tu sai che un giorno devi devi vederla mettiti quel maglione perché quella persona sarà contenta di vedere che quel maglione c'è addosso e devi farlo proprio con questa intenzione che quella di veda d'accordo e che sia quindi contenta perché dice oh gli è piaciuto il maglione perché se tu se questa te regala un maglione tutte le volte che ti vede non te lo vede mai addosso sta tranquillo che ci pensa a questo maglione non gli è piaciuto tra moglie e marito tra moglie e marito bisogna gratificarsi tutti i santi momenti quando uno si mette a tavola deve dire che buono che bello perché una povera disgraziata che ti ha fatto il pranzo ma pure se non gli fosse venuto benissimo con tanto amore e tu lo devi fare questa cosa qua se vuoi cominciare a vivere un pochettino per quanto possibile perché qui purtroppo la quinta dimensione non ce l'abbiamo però abbiamo una divina volontà che ci fa un pochino anticipare il paradiso sulla sulla terra no quindi questa 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 finezza di amore dobbiamo in qualche modo provare ad acquisirla no le norme del galateo per esempio no viene un ospite a cena ti porta una bottiglia di vino tu puoi invece in cantina pure il brunello da montalcino del 1970 una bottiglia che te costa 500 euro ma che c'hai preparato quella bottiglia che muova lo lasci in cantina perché si apre la bottiglia del vino che ti hanno regalato proprio per manifestare questo 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 gradimento cioè noi in questa schifosissima società di dove 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 gli abitanti di di cafonia e di grezzonia fanno proprio il fumo si sono si stanno perdendo queste cose e non è una cosa bella infatti c'è 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 l'orrore e il vuoto insomma la bruttezza dilagante il contraccambio è molto gradevole amorca nulla amata ma perdona non pensiamo agli amori soltanto nelle grandi cose anche nelle piccole cose no e per essere felici occorre far felici le altre creature vincolate amorosamente con te che ci abbiamo noi intorno a noi adesso ecco allora dobbiamo cominciare ad avere come obiettivo fermo restando attenzione a cui stanno tutta una serie di cose quindi non dobbiamo attaccarci troppo alle creature dobbiamo fare attenzione non si attacchino troppo a noi ma per quanto possibile seminare felicità intorno a noi farle felici come possiamo che ci abbiamo avuto canti che se che questi grandi queste grandi risorse allietare la vita di chi sta intorno in questo è il cielo d'accordo nostro signore lo fa con tutti per quanto possibile per quanto possibile non la sua onnipotenza la sua onnipotenza è un gioco da ragazzi ma purtroppo qui in questo mondo deve calibrare dosare anche qualche croce per il nostro bene se potesse risparmiarci da tutti lo farebbe ma quello non sarebbe il nostro bene e quindi non lo fa i meravigliosi vincoli dell'amore universale sono gioiosissimi e non possono venire frustrati nella gloria eterna e te ne accorgerai che l'assimilazione l'eliminazione le catenoni alimentari anziché essere crudeltà della natura sono sostituzioni molto gradevoli ispirate dall'eterno amore universale capiremo più avanti che cosa intende con queste cose teneramata di che cosa è fatta l'anima immateriale ma non spirituale degli animali e dei vegetali attenzione a questi concetti intanto vedo anche nei commenti lì che arrivano su youtube che gli animali hanno l'anima no non hanno l'anima come la nostra la loro anima non è capace di dio per cui non esiste il paradiso degli animali gli animali non vanno in paradiso gli animali sussistono nell'eternità creata e godranno più di adesso ma sempre da animali loro non vedranno dio non avranno una visione beatifica quindi però avranno una capacità una una capacità di comunicare di interscambiare amore con le altre creature molto superiore a quella che hanno anche loro nel tempo in cui sono viatori ma non c'hanno l'anima i diletti più grandi li daremo noi come sacerdoti della creazione ricordiamo questo cioè incaricati da dio di dare queste forme di gioia del tutto peculiare a questi esserini molto inferiori a noi te ne una amata risponde aspettavo questa domanda a cui non ti volevo dare spiegazione per non crearti altre complicazioni quindi si preparano altre complicazioni poi cercheremo per quanto possibile di di rimarle per quanto possibile perché io ci provo ma anche la mia conoscenza è limitata la mia capacità anche di rimere le tante cose delicate e a volte anche un po' difficili che compaiono in questo bellissimo libro l'anima immateriale attenzione o principio vitale ed unificatore degli organismi irrazionali guardate che ognuna di queste parole è una tonnellata è una forma di sopra energia molto superiore nella sua natura alla materia ed energia che tu conosci ma sommamente inferiore all'anima umana e infatti Riccardo risponde adesso sì che mi schiaccia l'universo per quanto è complicato vissi tra me oltre a ciò che conosco superficialmente esiste anche la sopra energia e quindi la infra energia delle quali non so assolutamente nulla nella creazione mi spiegò con pazienza esistono moltissime meraviglie che superano l'intelligenza degli uomini più saggi e degli angeli più intelligenti io spero che stiamo capendo una cosa che noi non sappiamo quasi un tubo mi si perdoni il termine un po' feriale ma niente è un po' poco un tubo di niente quasi un tubo cioè quando ci mettiamo davanti a queste cose dobbiamo dire ma questo sta già scritto nei libri sapienziali che quanto sei grande signore e noi quasi nulla contempliamo delle sue opere quasi nulla e attenzione dice attenzione che questa superano l'intelligenza degli uomini più saggi e degli angeli più intelligenti e riprendo a leggere se la natura è inspiegabile per le creature più eccelse pensa quanto più ineffabile sarà il creatore non pretendere di racchiudere nella tua mente il magnifico universo la piccola scienza umana non è che una semplice sciocchezza meno del balbettare dei bambini dinanzi all'altissimo quindi pensate quanto sono pensate alla prosopopea di questi pagliacci perché sono questo e si perdoni insomma che blaterano che cianciano e che girano e che si riempiono la bocca con la scienza la scienza la scienza e che adesso vogliono costruire il mondo senza Dio con la scienza con la scienza con le super tecnologie che tutti quanti questi giochetti che abbiamo dinanzi a noi quindi lo sto usando pure io adesso computer, dirette, wifi, pc e imbrogli a nostro signore Gesù Cristo cioè sono cose che fanno ridere le galline per lui ridere le galline quello che ci sembra che siamo padroni del mondo adesso qui i satelliti le intelligenze artificiali e questo e gli aerei sciocchi e stupidi esseri umani stupidi che si sono messi in testa di costruire la civiltà senza Dio che per quattro cose che si sono imparati pensano adesso defenestriamo nostro signore ci stanno provando vedrete che fine fa che fine farà la Babilonia senza Dio profetizzata la fine della Babilonia senza Dio nel libro dell'Apocalisse fa una brutta fine tutte queste cose utili se vogliamo anche belle che creano delle bellezze se tutti quanti gli uomini fossero santi o contribuerebbero veramente ad un'elevazione della qualità del mondo ma quanti usano queste cose in maniera santa pochissimi no? se posso raccontare una cosa io cominciai su internet tantissimi anni fa fui un pioniere aiutato però dal consiglio di qualche saggio sacerdote che conosceva meglio di me San Massimiliano Maria Colbe perché io avevo tante titubanze dico ma la posso mettere in giro su web con tutta la monnezza che c'è sta in giro ma lì è pieno di pornografia è pieno di questa roba qua ma caspita faccio io andare a mettere le cose sante in mezzo a Stoleta Maio mi venivano questi pensieri e quello giustamente mi disse tu lo devi fare apposta perché questa è una risorsa perché tu capisci che mettere una cosa di questo genere in giro vi faccio un esempio l'altro giorno mi è arrivata una telefonata mi ha detto a Samadri ho visto un suo video su TikTok tu l'hai visto il video su TikTok guardi che io su TikTok non ho mai caricato manco un video cioè TikTok non lo uso proprio TikTok non si può usare almeno per quanto mi riguarda però il mio video stava su TikTok io non ho più palida idea se sta su TikTok vuol dire che qualcuno l'ha scaricato e l'ha ricaricato di là cioè capite io adesso sono un pochino pratico è chiaro che io dei miei canali ho i dati i riscontri oggettivi io so quante visualizzazioni c'ha un video o quante ascolti c'ha un podcast o cose di questo genere ma questo è niente però perché ogni tanto mi ritrovo in giro ci sono siti web dove hanno caricato una montagna di cose che ho messo io in giro io non ne so assolutamente nulla a me non mi apporta niente per carità quindi se facessero tutto quello che vogliono cioè se lo ritengono utile è chiaro che se una cosa la metto lì so bene che una volta che l'hai messa lì quello è un proiettile che ormai è fuori controllo d'accordo è impossibile eliminarlo completamente tu puoi eliminarli dai tuoi canali ma appena c'è una condivisione un download e un reupload quella cosa vola allora questa è una risorsa però cioè perché mi fu spiegato ti rendi conto quanta gente che magari non è possibilità ti rendi conto seduta davanti a un tavolino ascoltando queste cose magari se lo vuole convertì eppure te brutto io dico ah eh vabbè allora famolo va non capivo ancora che cioè tutto quello che ci circonda come del resto dicono i santi in se stesso è neutro diceva diceva San Tommaso cioè in base all'uso che ne fai che può diventare ottimo buono indifferente o addirittura cattivo o pessimo il computer in sé non è niente è uno strumento bisogna vedere quello che ci fai dicono che l'iPad sia il dispositivo diciamo il tablet più venduto al mondo non è un titolo di onore perché è il più usato per guardare materiale pornografico per la chiarezza e la limpidezza delle sue immagini sic che io evidentemente non ho mai fatto un uso di questo genere con i miei iPad cioè io ho l'iPad sotto gli occhi non lo vedete dallo schermo perché ho figuriamoci ho le bucche di tenera amata dove posso sottolineare con l'Apple Pencil e quindi fare meglio il commento questo è l'uso che ne faccio io però capite no? lo stesso strumento ahimè e quindi questi questi che si la scienza con l'H che si pensano di essere il Padre Eterno in terra sono nessuno e non sanno niente in confronto a quello che è lo scibile che ci sarebbe da sapere niente la piccola scienza umana riprendo non è che una semplice sciocchezza meno del balbettare dei bambini davanti all'altissimo bisognerebbero ricordagli ogni tanto a questi signori ma tanto questi non ascolterebbero perché non ci crederebbero a queste parole è che desidero sapere la verità con la V maiuscola ribatte Riccardo e la assaporerai in cielo fino al limite della tua capacità intellettiva dinanzi ai grandi misteri mi si perdoni se riintervengo un'altra volta perché c'è molta gente che è curiosa allora dinanzi a questi grandi misteri l'atteggiamento è questo qui cioè quello che il nostro signore per grazia ci concede di conoscere perché reputa utile noi lo prendiamo con attitudine e cerchiamo per quanto possibile di capirlo e di farne buon uso il processo contrario cioè andarsi a prendere una cosa non è mai una cosa fatta bene mai voi pensate no la divinazione che è l'invocazione di un morto è un peccato mortale gravissimo cioè io vado a cercare un contatto con un morto ma qui Riccardo sta in contatto con una morta capito ma non è andata a cercarselo ha ricevuto un tono gratuito andare a fare le invocazioni di angeli e cose di questo genere è sempre una cosa diffidata e pericolosissima perché non si chiamano gli angeli si chiamano i diavoli però delle volte gli angeli si manifestano guardate Santa Gemma Calgani o Natuzza Evolo tanto per dirne qualcuno capite? cioè noi dobbiamo stare in un atteggiamento tu non ti devi andare a prendere le cose che non sono le tue per questo fai peccato immortale se il nostro Signore liberamente ti fa un regalo te lo prendi senza se te lo toglie glielo lasci quindi tutte queste cose che non possiamo le assaporeremo in cielo e lasciamoci qualcosa da fare pure per l'altro mondo fino al limite della tua capacità intellettiva e non mi riferisco alla capacità che hai attualmente ma a quella che possederai nella tua futura condizione di beato di re della creazione ma per adesso qui facciamoci un bel quadretto con questa con questa esortazione mentre sei viatore anziché indagare con egoismo gli ineffabili misteri del cosmo che ti indaghi ringrazia il creatore per tutto ciò che ha tratto dal nulla per la sua grande gloria perché ad essa parteciperà nel cielo invece di indagare fai i giri per chi conosce la divina volontà guarda le cose belle cerca di metterti in sintonia di prenderti ti amo e che Dio non ti manca tantamente a chiedere perché per dove per quando e per dove lascia perdere sono tante le questioni su cui gli esseri umani perdono tempo e si fanno domande non solo inutili ma non graditi a Dio perché la curiosità a Dio non è gradita dobbiamo starne lontano Dio non gli piace la curiosità credo che in quel momento intravidi quello che diciamo nel gloria della messa ti rendiamo grazie per la tua grande gloria Signore Dio Re del Cielo Dio Padre Onnipotente sapete che gloria è la preghiera preferita dalla Madonna e dovremmo veramente cantarlo o recitarlo con tutto il cuore proprio decore come dicono a Roma sì perché della sua grande gloria saremo partecipi un giorno dice Riccardo è così confermò Teneramata ma hai bisogno di collaborare con l'Altissimo per raggiungere questa partecipazione amandolo sopra tutte le creature e dimostrandogli il tuo amore mediante l'amore tuoi simili perché così lui te l'ordinò attenzione alla sequenza eh l'amore è sempre prima e anzitutto amore di Dio l'amore del prossimo è una dimostrazione di amore perché io amo il prossimo perché non faccio nessun male al prossimo perché perdono le offese ricevute anche da parte di qualche essere che è una carugna e che è indegno perché perché nostro Signore come ha creato la mia anima ha creato la sua anima ama di amore eterno la mia anima ama di amore eterno la sua anima quando noi amiamo qualcuno se c'è qualcosa che è preziosa per qualcuno che amiamo è preziosa anche per noi questo è l'amore vero gli amici dell'amato sono miei amici i nemici dell'amato sono miei nemici giusto? e quindi siccome Dio gli uomini li ama tutti anche i peccatori come dice Gesù nel Vangelo fa sorgere il suo po' sopra giusti e sopra i malvagi egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi e noi siamo come lui prova ad avere questa motivazione ma io non riesco a perdonare non riesco a fare perché non c'è delle buone motivazioni amici miei io penso di aver avuto più di qualche cosa da perdonare durante la mia vita terrena cioè è difficile lo capisco che è difficilissimo perché cioè le ferite sono sempre ferite enormi che ci portiamo dietro però bisogna vedere la motivazione la motivazione non risiede nel soggetto il soggetto può essere spreggevole quanto uno vuole ma nell'amato che non vuole che tu ti vendichi ricambi il male con il male desideri il male vuoi il male no che perdoni come disse Santa Maria Corretti voglio che stia accanto a me in paradiso vediamo se siamo capaci di dire di una persona che meno la vedi e meglio sta nella nostra preghiera voglio che stia affianca a me in paradiso lui dice no ecco uno che dicesse no perché ancora ha capito un tubo stasera è la terza di questo di quello che è il paradiso perché in paradiso tutto quello di marcio di negativo che questa persona può avere anche vissuto e avuto qui non c'è più in paradiso se quella persona supposto che sia cattiva si è converte e ci va la sua cattiveria non esiste più non c'è più è un'altra cosa e quindi voi state tranquillamente vicini in paradiso il ricordo del male non c'è più del male del male vissuto le ferite non ci stanno più vedete che significa cominciare a a ragionare in maniera soprannaturale non umana ma ricorda riprendo la lettura che sia amore di carità quello verso il prossimo non di semplice filantropismo come perdonatemi sembra essersi ridotta non dico voglio spavere non gran parte ma almeno una parte della Chiesa che il tuo amore al prossimo abbia per fondamento l'amore di Dio cioè qui si sciacqua in continuazione la bocca con l'amore del prossimo ma si dimentica poco tutti penso che conoscete la grande frase che disse Santa Teresa di Calcutta no? io perché secondo voi sono andato in mezzo ai poveri agli ultimi degli ultimi per fare un'opera sociale per aiutare questi poveri disgraziati che non si rifiua a nessuno per questo tutto qui io non sono andato lì per questo io sono andato lì perché il nostro Signore Gesù Cristo ha detto qualunque cosa tu fai al più piccolo l'hai fatta a me e allora siccome è stato più piccolo io sono voluto andarmi a trovare gli ultimi degli ultimi proprio gli scarti rifiuti della società e quando io faccio qualcosa a quello io non ho nessun dubbio che lo sto facendo a lui e per questo lo faccio l'azione esterna può essere tranquillamente la stessa perché un filantropo può fare tantissimo del bene ma quel bene davanti a Dio non ha nessun valore soprannaturale nessuno ha un valore naturale e come dice Santo Ommaso il Signore lo ricompenserà con beni temporali in questa vita ma non con beni soprannaturali perché viene ricompensato con beni soprannaturali con gradi di gloria superiore e grazia in più solo quel bene che è fatto mosso dalla carità soprannaturale lo faccio per amore di Dio voi pensate se uno vivesse cioè si potrebbe sfasciare una famiglia se questi concetti fossero convinzioni pratico operative ma quanto mai perché non esisterebbero neanche gli antecedenti logici per sfasciare una famiglia perché per sfasciare una famiglia devi creare una situazione brutta di conflittualità esasperata vi pare che una coppia di santi osa insultare la sposa o lo sposo trattarlo male alzargli la voce offenderlo la carne della tua carne o che nessuno pensi che non è possibile se no nell'eternità creata vi riporto a Borgo San Michele dove portai una coppia di sposi 60 anni di matrimoni insieme con i figli che davanti a tutti hanno detto io non ho mai sentito mio padre mancare di rispetto a mia madre quindi non è vero che è impossibile quella era semplicemente gente formata con una religiosità ad acciaio di altri tempi che oggi non ci abbiamo più ecco perché è un inferno la vita il tuo amore del prossimo abbia per fondamento l'amore al tuo Dio e non sia invece un umanesimo di club egoista e dolciastro travestito di cristiano sembra che stia facendo una fotografia all'ambiente speriamo sempre di parte della chiesa in cui stiamo vivendo proprio la foto proprio il vero cristianesimo viene edificato sul primo comandamento della legge del nostro Dio sul primo amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze non sul secondo il secondo comandamento è condiviso dai massoni la fratellanza universale è un concetto massonico viene dalla rivoluzione francese viene anche prima noi concepiamo il prossimo come soggetto da amare certo ma bisogna vedere perché e per chi e come non è la stessa cosa anche se a livello pratico gli atteggiamenti possono essere simili ma non è affatto la stessa cosa la morale laica illuminista massonica Scant diceva il prossimo è degno di essere amato per se stesso agisci in modo da considerare sempre il prossimo come fine e mai come mezzo perché per l'intrinseca dignità che c'ha l'essere umano in quanto uomo con la U maiuscola per noi non è così assolutamente io amo il prossimo anche chi è cattivo non per la dignità intrinseca dell'uomo ma per quello una creatura dell'altissimo quello c'ha l'anima per quello Gesù ha versato tutto quanto il suo sangue fino all'ultima goccia e quindi anche se attraverso la sua volontà umana storpia con l'immagine che ha la degrada e si si macchia di cose orribili io vado oltre e vedo quello che c'è sotto come lo vede lui fino a quando Dio non voglia la malvagità e perversità in cui dovesse persistere non diventino irreversibili e quindi diventa un dannato a quel punto abbiamo finito di amarlo a quel punto solo però quindi il vero cristianesimo viene edificato sul primo comandamento e niente ha a che fare con quell'altro atteggiamento comoduccio sentire i termini cristianoide e compiacente di religione di club che sopprime o ritaglia i dogmi per non molestare i credenti tra virgolette ritaglia i dogmi per non molestare i credenti ma sembra la fotografia di quello che stiamo vivendo sopprime o ritaglia i dogmi a oggi si può più parlare di questo dogmi verità di fede peccati anziché di peccati si parla di fragilità di dogmi non si parla proprio più d'accordo anziché di di verità si parla di dialoghi quindi di cose che sono in costruzione non esistono dei caposaldi fissi come ti permetti tu no questi li devi comunque rielaborare all'interno di una posizione oi cerca di accettare per fede prosegue più che di comprendere ciò che in te si sta operando grazie a questo particolare regalo che ti fa il nostro dio sentite che dice accetta con fede più che comprendere quello che sta vivendo con me fa per ricavare da tutto questo un profitto morale che ti serva per diventare migliore questa è l'unica cosa che conta e per raggiungere nella tua condizione di pellegrino un più alto livello di carità cioè tutte le cose che noi viviamo che facciamo c'hanno soltanto uno scopo anche ascoltare sta catechesi per chi la sta ascoltando se tu non esci da qui e sei diventato un pochino migliore tempo perso perché l'unica cosa importante è che diventiamo sempre più santi per arrivare a dei livelli di carità sempre più alti perché da quello dipende il nostro grado di gloria la vita terrena non conta niente di per se stessa noi dobbiamo essere completamente puntati verso la vita eterna nell'esercitare l'amore di carità aumenterà la tua collaborazione terrena al disegno del Signore su di te e raggiungerai un grado più grande di gloria nel cielo e se aumenta la tua felicità accidentale renderai più felice l'universo perché perché se io divento più santo quando andrò in paradiso io porterò un grado di gloria accidentale più grande agli altri santi che già ci stanno si capisce questo qui no? perché se entro io con un altro grado di gloria che supero tenera amata tenera amata quando io arriverò su anche da me riceverà tenera amata o chi per lei che ne so le leccornie più buone di quelle che sa fare lei perché lei è ancora bassa nella gloria gliela faccio io se io un io impersonale io e te la superiamo in gloria però e per superarla in gloria cosa dobbiamo fare? dobbiamo diventare ogni giorno migliori e quindi prendere da tutto quello che il Signore ci fa vivere che cosa? non sta a farsi 100 miliardi di domande sta dicendo anche a Riccardo ma non te stai cerbellare io te sto di cerca di trarne il massimo del profitto perché questa esperienza ti possa far diventare più santo tanto più santo lui risponde intravedo ciò che mi dici ma non lo comprendo del tutto lo so risponde e anche il Signore lo sa per questo affinché con calma lo metti e lo metta in pratica lui ti ha concesso di vivere tanti anni sei autore insieme con il nostro Dio del tuo merito e della tua gloria questo non dimentichiamocelo mai ma dammi retta dinanzi ai dubbi religiosi intellettuali credi e davanti alla perplessità di come agire di come devi agire le ama ma con amore di carità in questo paratempo il nostro Dio ti concede se vuoi che la tua unica anima sentite senza lasciare di animare il tuo corpo di adulto sia cosciente dell'organismo che possedevi nella tua infanzia lo vuoi fare davvero capite cosa sta dicendo cioè gli sta dicendo che questa non è una bilocazione qui dobbiamo fare un piccolo sforzo la tua unica anima vi ricordate cosa ci siamo detti cosa ci ha spiegato nel corso delle puntate passate noi abbiamo una sola anima quella unica che però anima quindi attua diversi tipi di corpi l'infante il bambino l'adolescente il ragazzo il giovane l'adulto la persona matura l'anziano il vecchio vi ricordate il ricambio delle cellule il ricambio integrale di cellule si è ogni circa sette anni quindi vuol dire che io ho già avuto sette corpi completamente rinnovati anche se vedete però le mie fattezze esteriori se uno vede una foto di quando ero un bambino se fa attenzione si vede che mi assomiglia però non sono uguale ma è proprio uguale allora sta dicendo tu moce hai 50 anni ricordiamo sempre che stiamo ancora a San Lui Potosì quindi questo è un dialogo che avviene mentre stanno vedendo la scena ferma di quando Teneramata cantò la pacarera questa scena stanno vedendo con tutte quante le immagini ferme perché stanno in un paratempo molto molto al di sotto dello scorrere del secondo attuale che caratterizza la vita terrena e lei gli dice senti vuoi provare rimanendo cinquantenne ad entrare dentro il tuo corpo animato dall'anima stessa che tu hai adesso però di quando avevi otto anni quindi tu entri dentro il tuo corpo di bambino per percepire adesso come eri quando eri bambino si può fare questa cosa lo vuoi fare davvero? si Teneramata non capisco bene tutto questo ma la curiosità mi sprona va bene ma sia attento a non abusare della bilocazione nel ritorno della tua coscienza alla tua antica timora voglio dire nel prendere nuovamente possesso intellettuale del tuo corpo di bambino sentite cosa dice dovrai soltanto osservare non attuare con la tua volontà su di esso comportati come recettore non voler minimamente influire sul tuo corpo infantile capite che che significa? cioè ti faccio vivere questa esperienza ma la puoi vivere soltanto se tu li guardi e vedremo che annuncio in primis che Riccardo non fa questo qui e poi il nostro signore gli farà vedere le conseguenze disastrose che questo atto avrebbe prodotto nella crescita del bambino io dissi tra me te ne l'amata esagera mi scordai che le osservai i miei pensieri riprende guarda che puoi compromettere seriamente il tuo futuro temporale insistette ma io continuavo a pensare ma il mio corpo di 48 anni fa è come un cadavere di me stesso come le unghie che mi sono tagliato nel corso della mia vita ma in che cosa lo potrei danneggiare se la mia coscienza gli facesse alcune domande incominciavo già ad elaborare il questionario quando lei continuava leggendo il mio pensiero mediante l'ineffabile contatto delle nostre anime mi avvertì capite un'altra cosa un altro potere divino che Dio dà leggere i pensieri e infatti Teneramata interviene e dice guardati dal farlo il danno potrebbe essere grave sei ancora aviatore e ci troviamo a visitare il passato ma ciò che per te uomo maturo attenzione è passato per il tuo organismo infantile è presente o futuro ricordate la parola magica sei ancora viatore qui in questo mondo non si possono fare queste cose non si può noi potremo rivivere tutte quante le fasi del nostro organismo dopo la morte quando entriamo nell'eternità creata da morti che poi vedremo che cosa è la morte qui no perché perché se lo fai qui non stai come dice il tempo il titolo del testo di Teneramata al di là del tempo e dello spazio no no qui ci stai immerso fino al collo e quindi se il tuo cervello di bambino proseguo a leggere captasse qualcosa di anomalo per la sua età cioè tu ti vai a mettere dentro il cervello di un bambino con la coscienza di un cinquantenne gli causerebbe un trauma psicologico o qualche cosa di peggio e questo sconvolgimento si ripercuoterebbe in tutte le tappe della tua vita fino al tuo corpo presente infatti in quanto adulto tu hai vissuto innumerevoli spazi e tempi ma non così il tuo organismo infantile ciò che esso possa fissare in questa esperienza influirà per forza nel momento attuale ricorda che il passato presente e futuro sono nozioni soggettive necessarie i vietori ma senza importanza nell'aldilà sebbene non l'avevo già accettato non riuscivo a digerire l'idea che il bambino ed io eravamo esattamente la stessa persona allora te l'amata riprende per farglielo capire un po' meglio il tuo essere attuale mi disse ha accumulato una grande quantità di atti di esistenza questo lo capiamo che ha conservato nei rispettivi spazi e tempi della quinta dimensione ma non così invece la tua fase infantile non capisci che ancora non accade al bambino ciò che è già accaduto all'adulto scusami credo che è meglio per te non effettuare l'esperimento è pericoloso per scoraggiarti ti pensa che ci sono molte nozioni di biologia universale che non conosci e che io difficilmente potrei spiegarti non so come mi venne l'idea di proporti la bilocazione diretta da me tenere l'amata aveva ragione la mia leggerezza l'aveva scoraggiata non è per questo amore mio sentite come lo chiama mi disse per confortarmi vedendo il mio pensiero è che la biologia cosmica è molto complessa introduciamo il capitolo 18 ci abbiamo ancora qualche minuto tenere l'amata ed io continuavamo in piedi di fronte alla finestra ecco ci siamo ricollocati a San Luis Potosi nel salotto tutte le persone continuavano immobili come stato di un museo delle cere la mia curiosità era molto grande ardevo dal desiderio di realizzare quel meraviglioso possesso cosciente del mio organismo di fanciolo tenere l'amata permetti di fare questa bilocazione ti prometto di comportarmi con molta prudenza mi comporterò come un semplice spettatore il bambino il mio corpo infantile continuava immobile fissi gli occhi sul volto della bella ragazza che presso il pianoforte sembrava cantare inutile dire sappiamo chi è la scena e proseguiamo la lettura no? ebbene intenta di bilocarti come si pratica la bilocazione? basta che tu voglia farlo perché il Signore te lo permette guardate come fa Dio ad operare? basta che voglia una cosa e quella cosa si fa per cui se Dio ci dà la permissione di fare una cosa basta che noi la vogliamo e quella cosa si fa dissi a me stesso voglio bilocarmi ma tutto continuò uguale io ero ancora in piedi accanto a tenere la mano di fronte alla finestra tenta ancora disse pietosamente chiusi gli occhi premendo i denti e di nuovo comandai con tutte le mie forze voglio bilocarmi col bambino voglio bilocarmi col bambino ma niente rimaniamo nello stesso posto guarda l'atto di volere con bemenza non consiste nel chiudere i pugni premere i denti e realizzare il meccanismo muscolare dello sforzo il volere fervido è un atto della volontà non dei denti o dei pugni tentalo di nuovo feci un altro tentativo e non ci riuscì nemmeno questa volta mi sentì sconfitto e pieno di confusione davanti a tenere la mano non preoccuparti mi confortò quando il mortale non può fare una cosa buona che si è proposta deve chiedere aiuto al nostro Dio e anche al prossimo il Signore sempre soccorre anche se delle volte non coincide ciò che lui dà con quello che gli si chiede il prossimo in carità cristiana copera copera fin dove può non sono capace di bilocarmi dissi con sconforto ma come no il più piccolo dei glorificati sentite può collocarsi coscientemente almeno in tre o quattro spazi tempi contemporaneamente il più piccolo io lo posso fare in sette ubicazioni contemporanee soltanto perché il mio grado di gloria è molto piccolo ma alcuni beati sentite hanno capacità di multilocarsi milioni e milioni di volte capite che significa milioni cioè bilocarsi in milioni e milioni di condizioni differenti contemporaneamente capite grande partecipazione all'immensità di Dio che è tutto e dappertutto e fanno godere e godono e fanno cadere godere in maniera indicibile a tu pensi se ti stai multilocando in milioni e milioni quindi di esseri di fiamme di amore di animali di piante e ti stai a prendere un autotreno d'amore a tutta questa roba e a ridarglieli sette niente non è sicuramente sembra una cosa bellissima ma capite il grado di gloria che ci avremo in cielo lo dico per me non voglio fare delle pratiche da parlo sprechiamo pure la vita perdiamo tempo andiamo appresso a cretinate a frescacce perdiamo occasioni per diventare più santi dopo voglio se non lo facciamo adesso sta cosa non si fa più quella sette di gloria le sette bilocazioni se le diamo in tutta l'eternità non cambieranno mai chiaro ai milioni ci arriviamo qua io vorrei gli stupidi esseri umani vanno a pressa ai soldi per diventare come Jeff Bezos io cito sempre lui noi dobbiamo essere peggio di Jeff Bezos ma non per diventare ricchi sfondati di soldi ma per diventare ricchi sfondati di meriti perché quello che Jeff Bezos è sulla terra noi dobbiamo puntare a esserlo in cielo con questa roba qui perché coi soldi mo non mi voglio essere ecco che ce fai ti compri un pochino di beni temporali ma tra cent'anni sei morto quello more quello lì anche se adesso stanno a fare tutte le cose le intelligenze soggetti che arrivano a 90 anni e sono completamente ricostruiti che si vergognano manca a Nangiro che si vedono lontano meglio che sono tutti quanti appiccicati ma si vergognano per niente dice non sono glorificato dissi con tristezza ma ti sto assistendo ascolta invece di dire voglio voglio chiedilo al nostro Dio con sincero tono supplicante così feci dal profondo del mio essere dissi signore se tu lo vuoi permettimi questa meravigliosa bilocazione altrimenti sia fatta la tua volontà abbastanza ma davvero abbastanza ormai mi hai dato e avvenne così non seppi come all'improvviso mi senti dentro quel ragazzino sbalordito ed immobile non si trattava di un incontro tra me e lui dal momento in quel bambino non vi era nessun altro fuori di me ero assolutamente sicuro che tutti e due eravamo la stessa persona ecco e oggi facciamo un finale tipo le serie tv che avete visto l'ultima scena dice no non finì adesso vai avanti no finiamo adesso la prossima volta e che succede adesso e poi vedremo la prossima volta il problema è che non c'è la grande suspense delle serie perché questo chi c'è il libro può andarla a vedere oltre però vediamo un pochino di fascino lo vediamo la prossima volta quindi ci lasciamo con Riccardo appena bilocato nel suo corpo di bambino la prossima volta vedremo quello che combina e quello che succede dentro il corpo di bambino soltanto per chiarire oggi è il 23 sì la settimana prossima solo per chi segue la diretta e poi chiudo non andremo in diretta venerdì perché venerdì sera ho un impegno con i sacerdoti ma andremo in diretta giovedì eccezionalmente perché non vorrei perdere evidentemente una puntata di Venera Amata e detto questo Dio vi benedica e la mamma sempre vi protegga di Venera Amata di Venera Amata